Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di una donna che è scomparsa. Me l'avete proposto voi questo caso sul Goldox, quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere. E partiamo immediatamente. Jennifer Cahill Shaddle sta affrontando un terribile divorzio nel 2014. La situazione sta per volgere al termine, ma è un periodo davvero molto difficile per la donna. Inizialmente non vuole fronteggiare il divorzio, è molto doloroso per lei stare lontana dai suoi figli. È un periodo così complicato per Jennifer che nel novembre del 2013 si trasferisce a Horaceburg, in Pennsylvania, per vivere con sua madre. Sua madre dice a Jennifer che ha bisogno di uscire, la situazione a casa non è affatto rassicurante e la donna è sempre triste, preoccupata. Ma nell'aprile del 2014 Jennifer non può più sopportare di essere così lontana dai suoi figli. Vorrebbe raggiungerli. Sua madre però riesce a fermarla. Il suo divorzio sarebbe stato presto effettivo e l'ordine a Sean per il mantenimento sponsale di Jennifer è di 5.000 dollari al mese. Certo, suo marito non è contento, ma a quanto pare tutti volevano che il divorzio diventasse concreto per chiudere questa storia. Il 15 maggio 2014 Jennifer si reca al centro commerciale Walmart, a un solarium e in un ristorante messicano. Dopo quel giorno la donna non viene più vista né sentita. Le domande dunque sorgono spontanee. Dov'è Jennifer? Ma soprattutto, chi è Jennifer? Partiamo come al solito dal principio. Jennifer Cahill nasce il 6 gennaio 1966. Gli suoi genitori, Joanna e Ed, descrivono la figlia come una ragazza amante del divertimento, carismatica, molto interessata all'arte e al cinema. Inoltre Jennifer si prende attentamente cura del suo fisico, fa parecchio sport e mangia sano. Quando incontra Sean Shaddle, Jennifer è molto giovane. È immediatamente attratta dalla sua sicurezza, dalla sua ambizione e dal suo bell'aspetto. La famiglia di Jennifer ricorda che la ragazza è cambiata dopo aver incontrato Sean, ma non in meglio. Raccontano che Jennifer aveva una bassa autostima, ma a un certo punto, durante una discussione familiare che aveva coinvolto Sean, lei avrebbe preso le parti di lui e non quella della sua stessa famiglia. A 21 anni, Jennifer sposa Sean. Vivono entrambi nel comune di State College, in Pennsylvania, e se la cavano abbastanza bene finanziariamente. Sean lavora nel settore assicurativo e man mano riesce a farsi una buona reputazione nella zona. Ci sono però alcune persone che non lo sopportano affatto. Sembra che emergano due lati diversi di Sean, se si chiede alle persone che bazzicano intorno allo State College. Lo State College si trova vicino al centro dello stato della Pennsylvania. È la sede della Penn State University e ha una popolazione di poco più di 42.000 abitanti. Sean è ben inserito nella comunità, tutto sommato molte persone gli stanno accanto, ha tanti amici. Jennifer tuttavia inizia ad avere dei problemi con l'alcol durante il loro matrimonio. Per porvi rimedio, inizia a frequentare un gruppo di sostegno per alcolisti, gli alcolisti anonimi, e segue una terapia a cadenza settimanale. A questo punto la situazione migliora e Jennifer sta molto meglio. Dopo un anno di frequentazione del gruppo alcolisti anonimi, un'amica di Jennifer sostiene che Sean, suo marito, le abbia regalato proprio una bottiglia di vino per festeggiare. Ora, non so se lo sapete, ma se una persona è dipendente dall'alcol, una volta iniziata la terapia, non può permettersi di bere mai più. Che io sappia, bisognerebbe rimanere sobri sempre e non cedere mai neanche a un goccio di vino. Su questo episodio ci sono due versioni diverse. Alcuni dicono che Sean non la sostenesse affatto nel percorso volto a smettere di bere. Perché altri ritengono che è stato proprio Sean a spingerla a chiedere aiuto e ad entrare negli alcolisti anonimi. Nel 2013, dopo 27 anni di matrimonio, Sean chiede il divorzio. Come già detto, Jennifer inizialmente non vuole divorziare e promette a se stessa che avrebbe combattuto per recuperare il loro matrimonio. Dopo un po' di tempo, la donna si ritrova comprensibilmente stressata dal divorzio. Non c'è verso di far cambiare idea a Sean, quindi lei torna a casa a vivere con sua madre a Orwisburg, sempre in Pennsylvania. Orwisburg dista circa due ore e mezza di auto dallo State College. Jennifer ha proprio avuto la necessità di andarsene. Mentre a Orwisburg, la donna trova lavoro in un'agenzia di assicurazioni. Nell'aprile del 2014, Jennifer non sopporta più di stare lontana dai suoi tre figli. Prova a tornare da Sean, ma sua madre glielo impedisce. Jennifer non ha un'auto sua e per le settimane successive la donna rimane con degli amici in un hotel a basso budget. Vuole trovare un appartamento per sistemarsi da sola, ma ha bisogno di risparmiare dei soldi per riuscirci. Mentre le trattative per il divorzio stanno per concludersi, il giudice del caso ordina Sean di pagare a Jennifer un mantenimento mensile di 5.000 dollari al mese. Questo l'avrebbe sicuramente aiutata a rincominciare da capo e ad avere una propria casa in cui vivere. Così Jennifer inizia a cercare appartamenti o camere in affitto e torna allo State College. Parliamo ora della scomparsa. Il 15 maggio 2014 Jennifer va a fare delle commissioni ed è allo State College. Torna in un hotel locale, si sposta tra il Broadway e il Quality Inn dello State College per muoversi, usa i taxi oppure cammina. Parla con la sua famiglia quel pomeriggio, spiegando i suoi piani futuri e dicendo che sente che le cose sarebbero migliorate molto presto. Il giorno successivo la madre di Jennifer non riesce a raggiungerla nel suo hotel, poiché Jennifer aveva perso il cellulare. Quando trascorre l'intera giornata e Joanna non ha notizie da sua figlia, intuisce che qualcosa non va. Passa un altro giorno con ancora nessuna comunicazione da Jennifer. Il 20 maggio la madre di Jennifer è nel panico e chiama la polizia locale dello State College. Lo State College è un'area interessante e secondo le linee guida della Pennsylvania viene chiamato Burrow. Ci sono molte altre aree all'interno dello State College che sono tecnicamente delle vere e proprie cittadine. Poiché Jennifer, l'ultima volta che è stata vista, si trovava nell'area di Ferguson, sempre all'interno dello State College, viene chiamata la polizia del luogo. Ma la polizia di Ferguson non è interessata a indagare su questa scomparsa. Le motivazioni per cui la polizia non intende indagare? Innanzitutto, Jennifer ha 48 anni, non deve per forza rispondere a qualcuno. Per di più stava attraversando un periodo stressante, forse aveva solo bisogno di allontanarsi per un po'. Quando la polizia chiede a Sean dove pensa che Jennifer potesse essere andata, lui alza le spalle e dice probabilmente a fare qualche riabilitazione da qualche altra parte. La famiglia di Jennifer sostiene che la donna non sarebbe mai andata in un centro di riabilitazione senza avvisare. Parlava quotidianamente con sua madre e con le sue figlie. Perché non avrebbe dovuto comunicarlo? Le forze dell'ordine si rifiutano di approfondire ulteriormente la questione, poiché Jennifer è un'adulta. Inoltre Sean, essendo noto e ben inserito all'interno della comunità, risulta credibile quando dice alla polizia che Jennifer, probabilmente, se n'è andata da sola per prendersi una pausa o cambiare aria. La polizia conosce Sean abbastanza bene da confidare nelle sue parole senza indagare. La famiglia di Jennifer però non si arrende, inizia a chiamare gli investigatori e a utilizzare i social network per tentare di trovarla. Molte persone difendono Sean, altre no, non lo difendono affatto. Persino la sorella di Sean si fa avanti per dire che pensava che lui sapesse più di quanto aveva riferito. Addirittura afferma che suo fratello non ira il cittadino perfetto come alcuni pensavano che fosse. Alla fine viene analizzato il filmato di sorveglianza del Walmart in North Atherton Street, a Ferguson State College, e si vede Jennifer lasciare Walmart alle 16.51. È da sola. Onestamente, sarei curiosa di sapere cosa li abbia portati a controllare il filmato di sorveglianza di Walmart e come siano venuti a conoscenza dell'orario in cui Jennifer era lì, ma suppongo che qualcuno abbia riferito di un avvistamento. O magari hanno considerato la sequenza temporale in cui Jennifer aveva parlato con la sua famiglia in precedenza, proprio quel giorno. Ma le cose a questo punto si fanno strane. La polizia emette un avviso di persona scomparsa, ma Jennifer non è ancora stata inserita ufficialmente come persona scomparsa nel sistema. Jennifer viene vista per l'ultima volta nel video di sorveglianza di Walmart alle 16.51 e non ha il telefono o il portafoglio con sé. Sappiamo che il telefono l'aveva perso, ma mi chiedo perché non avesse con sé un portafoglio? Aveva forse perso anche quello? Un rapporto afferma che aveva smarrito la carta di credito e che sua figlia e l'ex marito avrebbero dovuto portargliene un'altra. Viene anche sottolineato che Jennifer non aveva contanti con lei. Ancora una volta mi chiedo come facciano a saperlo, considerando che non hanno indagato. Finalmente, un mese dopo, la polizia inserisce Jennifer nel database delle persone scomparse. E ragazzi, un mese è tantissimo, ma andiamo avanti. Nel frattempo, la famiglia recupera gli effetti personali di Jennifer dall'hotel e il personale riferisce che stavano cercando di contattare Sean da diversi giorni, poiché la stanza era stata letteralmente abbandonata. Ma Sean aveva ignorato tutte quelle chiamate. Alcune persone si fanno avanti accusando Sean di essere stato abusivo nei confronti di Jennifer e naturalmente hanno anche una teoria sul motivo per cui avrebbe fatto sparire sua moglie. In effetti, il tempismo non sarebbe dei migliori. Doveva iniziare a pagare 5.000 dollari al mese per il mantenimento del coniuge e non ne era contento. Tuttavia, i bambini già vivevano con lui e sostengono pienamente il padre. Gli investigatori interrogano Sean e lo sottopongono a un test della macchina della verità, che dà un risultato inconcludente. Ora, a quanto capito, Sean aveva fumato tantissima robina, tanto da fanificarlo. Una domanda. Perché non l'hanno sottoposto a un secondo test del poligrafo? Vanno poi a perquisire la casa e la proprietà di Sean con dei cani di ricerca addestrati al rilevamento di cadaveri e resti umani, ma non trovano nulla. Passano diversi mesi e la famiglia di Jennifer, non ottenendo nessuna risposta dalla polizia locale, assume un investigatore privato, che scopre subito nuovi dettagli sulla vicenda. L'ultimo avvistamento noto di Jennifer è il filmato di sorveglianza di Walmart, ma l'investigatore privato apprende che era stata vista anche un paio d'ore dopo in un solarium, situato nella stessa piazza dello shopping. E poi ancora un paio d'ore dopo al ristorante messicano Don Patron, sempre nella stessa zona. La famiglia segnala questi risultati alle forze dell'ordine. Sean e i bambini decidono di non farsi intervistare, stanno lontani dai media, ma un membro della famiglia, ossia la figlia di Sean, parla di Jennifer. Stostiene che sapevano già dei successivi avvistamenti di sua madre, ma aggiunge che non l'hanno attenzionato alla polizia perché non era importante. Un anno dopo la scomparsa di Jennifer, la famiglia continua a combattere per coinvolgere l'FBI. Ritengono che l'FBI disponga di alcune risorse diverse e possa dare una nuova prospettiva al caso. La polizia locale però si rifiuta di coinvolgerli. La famiglia di Jennifer a questo punto si rivolge senza mediazioni all'FBI, che accetta di lavorare al caso, ma gli agenti sottolineano che devono essere coinvolti dalla polizia locale, cosa che non sta avvenendo. Un membro della famiglia scrive un'email diretta e un appello a Diana Conrad, che all'epoca è il capo della polizia del dipartimento di Ferguson. Ecco parte della sua risposta. Questo caso è ancora attivo e quindi non possiamo condividere tutte le informazioni, ma ci siamo incontrati e abbiamo fornito informazioni alla famiglia tramite i loro rappresentanti disegnati in molte occasioni. Alcune delle affermazioni della tua email non riflettono accuratamente la totalità delle informazioni fornite alla polizia. Non sono comprovate e sono incomprensibili. La famiglia di Jennifer non si arrende e invia ulteriori email che, però, vengono totalmente ignorate. La famiglia sostiene che gli ufficiali si comportano in modo irrispettoso e sono scortesi con loro, forse a causa della loro stretta relazione con Sean. È interessante notare anche che Sean a questo punto inizia a dire alle persone a lui vicine che qualcuno ha cercato di presentare una richiesta di risarcimento all'assicurazione sanitaria per la polizza sottoscritta per Jennifer. Ci hanno provato? Tre volte. Aggiunge che pensa che Jennifer sia viva e si trovi da qualche parte nel paese. Ma non c'è alcuna attività sul suo numero di previdenza sociale, sui conti bancari o altro per dimostrare che stia continuando a condurre la sua vita lontana dai figli. Gli amici e la famiglia di Jennifer implorano le autorità di tenere traccia di queste affermazioni ritenendo che potrebbe trattarsi di un tentativo di frode o furto d'identità. Ma la polizia, di nuovo, si rifiuta di approfondire la questione. E in realtà questa situazione sconcerta la famiglia di Jennifer perché la frode assicurativa dovrebbe essere presa sul serio? No? La famiglia a questo punto assume un altro investigatore privato per capire se effettivamente si tratta di un tentativo di frode o meno. Viene individuato l'indirizzo IP da cui proviene la richiesta di risarcimento, ossia nel New Jersey. Ma non si riescono a ottenere più informazioni. Come detto, tutti questi ulteriori indizi vengono scoperti da investigatori privati che la famiglia deve pagare di tasca propria. Semplicemente perché nessun altro avrebbe indagato. A nessuno fregava niente della scomparsa di quella donna. Sean sostiene che Jennifer è viva, che era lei che cercava di riscuotere i soldi dell'assicurazione. Forse, appunto, è scappata nel New Jersey. Ma in tanti sottolineano che Sean, essendo proprietaria di un'agenzia di assicurazioni, conosceva i dettagli del business più di altri. Molte persone sono convinte che Sean, con questo indizio, avrebbe potuto depistare le indagini per evitare che i sospetti ricadessero su di lui e convincere la gente a credere alla sua innocenza. Jennifer era stata al ristorante messicano Don Patron con quattro uomini. Aveva pagato lei il conto di quasi 200 dollari quella notte. Gli investigatori avrebbero potuto chiedere a quegli uomini di farsi avanti e parlare con loro di Jennifer. Cosa ha detto? Ha raccontato qualcosa di strano? Qual era il suo comportamento quella notte? C'è però un problema. Non sono mai riusciti a scoprire chi fossero quei quattro uomini. Questo evento mi dà molto su cui riflettere. Jennifer soggiornava in un hotel a basso budget? Poteva aver incontrato qualcuno mentre era lì? Forse qualcuno non della zona? Forse uno di quei quattro uomini con cui era andata a cena? Passiamo ora a tutte le teorie che sono state prese in considerazione per la scomparsa di Jennifer. Prima teoria, Sean Shadow. Sean è il primo sospettato della lista. Le persone lo guardano diffidenti. Aveva sicuramente un movente ed era abbastanza amato da una parte della comunità da tenere le forze dell'ordine lontane da lui. Ci sono alcuni parenti che gli stanno accanto, compresi i figli. Laura Shadow, figlia di Jennifer e Sean, dice che suo padre è stato ingiustamente controllato in modo maniacale fin dall'inizio. La stessa Laura, quando cresce, entra in politica in Pennsylvania e collabora con delle organizzazioni in lotta contro la violenza domestica. Ora parliamo della posizione di Sean, analizzandola da una prima prospettiva. Potrebbe sicuramente essere innocente. Perché? 1. Jennifer è la madre dei loro tre figli. 2. I suoi figli gli stanno accanto con tutto il cuore, così come altri membri della famiglia. 3. Le forze dell'ordine lo hanno scagionato come persona di interesse. 4. Gli amici di Sean si fanno avanti per confermare che Sean e i bambini stanno facendo tutto il possibile per cercare Jennifer, ma hanno preso una semplice decisione, stare lontano dai media. Ciò è comprensibile considerando la risposta pubblica al caso, almeno per coloro che non conoscono personalmente la famiglia. Inoltre, quinto punto, non si sono verificati avvistamenti di Sean e Jennifer assieme quel giorno. Ma la domanda è, in una trafficata zona commerciale, chi potrebbe aver mai fatto caso ai due? Non c'è mai stata alcuna prova che suggerisce che Sean le avesse fatto qualcosa. Ora diamo un'occhiata al motivo per cui, invece, potrebbe essere colpevole. Aveva un movente, un movente da 5.000 dollari al mese. Si diceva che il loro divorzio fosse difficile, il che significava probabilmente che la tensione era alle stelle. Molti si sono fatti avanti per dire che Sean ha offeso Jennifer più volte e, in un'occasione, l'ha picchiata facendole saltare un dente. Ciò nonostante, le ragioni per cui Sean risulterebbe innocente sono la maggior parte. Ma se Sean non ha fatto niente a Jennifer, dov'è quest'ultima? Arriviamo alla teoria numero 2. Un omicidio per mano di qualcuno che ha incontrato o con cui era coinvolta. Jennifer, come già detto, viveva in un hotel. Dunque, ha avuto molti contatti con persone che andavano e venivano. Persone spesso senza fissa dimora. Jennifer era una bella donna e stava divorziando. L'idea che volesse uscire e divertirsi un po' non è così assurda. In effetti, ci sono prove che dimostrano che l'ha fatto un paio di settimane prima al ristorante messicano Don Patron, spendendo quasi 200 dollari. I testimoni ricordano di averla vista con 4 maschi. Vi ricordo che questi 4 uomini devono ancora essere identificati. Potrebbero essere del tutto innocenti, ma perché non si sono fatti avanti per informare la polizia? Inoltre, Jennifer per spostarsi andava a piedi oppure prendeva un taxi perché non aveva una macchina. Qualcuno l'avrà vista camminare e l'ha aggredita? Sean, a mio avviso, e secondo molti altri, non dovrebbe essere escluso dalle indagini perché potrebbe esserci molto altro sotto. Mi vengono in mente giusto un paio di domande. Jennifer, con chi era uscita in quelle due settimane? Stava vedendo qualcuno? Avrebbe potuto facilmente tornare al suo hotel e lasciarlo per sempre con qualcuno senza essere vista? Da nessuno. E, dal momento che la polizia non ha indagato per diverse settimane, sono certa che qualsiasi filmato di sorveglianza dall'hotel in cui si trovava è sparito da tempo, sempre che ce ne fosse qualcuno. Jennifer potrebbe essere stata portata lontano da qualcun altro, qualcuno che stava frequentando o che aveva appena incontrato. Terza teoria. Jennifer si è allontanata volontariamente. Sappiamo che stava attraversando un periodo difficile. Stava vivendo un divorzio turbolento, aveva alle spalle un problema di dipendenza dall'alcol, aveva perso il telefono e alloggiava in hotel a basso budget. Mentre il suo futuro ex marito e i suoi figli vivevano in un bel quartiere di periferia. Forse era troppo da sopportare per lei? In effetti, guardando i fatti, da questa prospettiva è possibile immaginare una donna che vuole scappare, cambiare vita. Ma ci sono altri fatti che mi fanno riflettere quando si tratta di questa teoria. Di recente Jennifer era tornata in zona perché non sopportava di stare lontana dai suoi figli. Gli avrebbe lasciati ancora una volta? Sarebbe un comportamento strano. Dove potrebbe essere andata? Non aveva soldi. L'ultima volta, quando aveva avuto bisogno di un posto dove andare, era stata da sua madre. Dove altro sarebbe potuta andare? Non aveva una macchina. Come ci sarebbe arrivata? Emerge che a volte viaggiava con il megabus e che c'era una stazione degli autobus nei pressi del centro Walmart in cui è stata vista il 15 maggio 2014. Forse è salita su un autobus diretto da qualche parte. Ma dove? E perché? La sua famiglia sottolinea che non aveva soldi perché non aveva ancora iniziato a ricevere i pagamenti del mantenimento dal coniuge. Ora, io spero che la polizia abbia controllato se Jennifer avesse acquistato dei biglietti per l'autobus o se qualcuno l'avesse vista salerci sopra. C'è da dire che la storia di Jennifer è riuscita a raggiungere solo il pubblico locale. Quindi, se i passeggeri dell'autobus provenivano da una zona più distante, magari non avevano neanche sentito parlare del suo caso. Dunque sarebbe stato impossibile ricevere una segnalazione da loro. In ogni caso, per me questa terza ipotesi vacilla. Sono convinta che Jennifer si sarebbe già rifatta viva, specialmente per i suoi figli. Arriviamo alla teoria numero 4. Jennifer ha avuto un incidente, forse la notte del 15 maggio 2014. Jennifer è forse tornata alle sue brutte abitudini bevendo troppo? Negli ultimi tempi passava molto tempo al ristorante messicano Don Patron, soprattutto nelle ore serali. Avrà bevuto troppo, si è allontanata e ha avuto un incidente da qualche parte? Ci sono delle piccole aree boschive qua e là, proprio vicino al centro commerciale Walmart e al suo hotel, ma non viene trovato niente di significativo. Però, non è chiaro se siano mai state condotte perquisizioni fisiche nelle zone interessate. Non ci sono nemmeno specchi d'acqua grandi, almeno un paio di miglia, che potrebbero essere considerati raggiungibili a piedi. Quindi, cosa pensate sia successo a Jennifer? Jennifer viene descritta come una donna caucasica, alta circa 136 centimetri e con un peso di circa 49 kg, quando è stata vista l'ultima volta il 15 maggio 2014. Jennifer ha i capelli castani e gli occhi azzurri e spesso viene soprannominata Jenny. Indossava una maglietta chiara con scollo a V, pantaloni capri e scarpe nere e aveva una borsa a tracolla nera il giorno della sua scomparsa. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato interessante per voi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. So che non è molto dettagliato, ne sono consapevole, ma secondo me c'è molto di cui discutere. Quindi, come al solito, scrivetemi quello che pensate e noi ci becchiamo sempre giù nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!